salve ragazze benvenute bentrovate siete qui nel mio canale io sono Zahira faremo oggi una richiesta che tanti mi chiedete dice beh insomma parli sempre di amori vecchi insomma amori del passato eccetera eccetera e pensa un po anche a noi single allora io diciamo ho pensato di fare per i single ma se vogliamo anche per i non single però questo tipo di interattivo allora chi è la persona destinata a te quindi chi è questa persona che il destino ti ha messo lì che deve insomma essere la persona della tua vita tra virgolette quindi faremo una descrizione precisa di chi è destinato a te quindi andremo a vedere il segno zodiacale, le caratteristiche fisiche di comportamento che ne so che tipo di lavoro potrebbe fare, come vive, che tipo di sentimenti diciamo nel senso che come vive i sentimenti insomma andremo ad analizzare un po questa personalità che è destinata a voi poi sarà nuova sarà del passato la dovete ancora incontrare questo poi lo deciderete voi va bene a secondo delle carte che vengono fuori allora io qua intanto vi presento il mio elefantino portafortuna con la proboscita alzata verso la finestra e questo è il portafortuna di questa stesa allora vi dico un po le carte andremo a fare un po la descrizione della personalità con queste carte appunto che ho da poco costruito io che le chiamo le carte diciamo della descrizione della personalità insomma della personalità di chi andiamo a chiedere poi abbiamo i nostri oracoli vedete gli oracoli di elen dove faremo qualche altra domanda eccetera poi abbiamo queste carte già rosse che oppure ho costruito io dove ci saranno le iniziali ci sono i segni zodiacali un po le caratteristiche ma soprattutto ci serviremo dei nostri tarocchi in questo caso ho scelto i tarocchi delle stagioni allora ragazzi andiamo con con diciamo con ordine intanto andiamo un po a vedere questa persona andiamo a vedere questa persona proprio che è destinata a voi che segno zodiacale potrebbe avere ok quindi prenderemo qui alcune prenderemo tre carte faremo tre numero perfetto ovviamente andremo a vedere un po allargando che è un interattivo non ne posso prendere solo una daremo tre possibilità di descrizione precisa a che è destinato a voi voi che state seguendo questo interattivo a ragazze prima di iniziare sapete sempre un interattivo generale quindi non vi fissate sui responsi e soprattutto per chi vuole un consulto personale o chiedermi qualsiasi cosa voglia chiedermi nella descrizione dei contatti nella descrizione del video ci sono i miei contatti allora andiamo a scegliere tre carte per vedere un po che segno è che energia è è l'iniziale del nome ok prenderemo questa questa è questa possiamo le altre e giriamo le prime tre carte allora potrebbe avere un segno d'aria oppure potrebbe avere un segno di fuoco oppure potrebbe avere un segno di acqua ovviamente potrebbe avere un segno d'aria con ascendente fuoco un segno di fuoco con ascendente aria un segno di aria con ascendente acqua insomma poi vedete io intanto vi dico i segni d'aria sono bilancia gemelli acquario qua in particolare c'è un acquario se potrebbe però anche se non è acquario e bilancia o gemelli la stessa cosa è segnitaria questa è una persona fantasiosa creativa con molto fascino e le lettere le iniziali che potrebbe far riferimento alla descrizione di questa persona sono la lettera r m n g oppure la lettera d ok poi invece potrebbe anche essere un segno di fuoco quindi sagittario leone ariete in particolare sagittario e le caratteristiche di forza di terminazione anche un po ecocentrico e comunque sempre un segno di fuoco e le lettere potrebbe essere iniziali a e f b o c ovviamente le lettere possono essere le iniziali del nome del cognome o di un soprannome che lo insomma che gli sta ti hanno dato che si è messo eccetera poi terza opzione potrebbe essere un segno di acqua cancro pesci in particolare scorpione ovviamente questi segni vi ripeto potrebbero essere che voi li potete ritrovare entrambi c'è uno nell'ascendente uno nel segno proprio zodiacale o ancora insomma in altre situazioni quindi qua le caratteristiche sono fascino sensualità però questa è una persona anche un po dura egoista quando vuole allora le lettere di corrispondenza sono la b la z o la a quindi questi sono i primi dettagli ok ragazze quindi se già insomma avete così avete visto che ci sono dei dettagli che vi riguardano bene allora se non ci sono guardate adesso queste che ci sono ovviamente la descrizione proprio fisica potrebbe uscire descrizione fisica e anche così insomma di carattere no di indole anche di comportamento va bene allora andiamo a vedere quindi con queste carte della personalità così lo chiamate le carte della personalità ripeto che può essere fisica o anche interiore vediamo qua prenderemo qui in questo caso cinque carte più il fondo mazzo vediamo questa persona come potrebbe anzi ne prenderò sei di carte è una persona allegra dalla battuta facile quindi qua parliamo di una persona poi dopo faremo un approfondimento è su queste carte che io pescherò allora prendiamo allora ne prendo cinque sì ne prendo cinque è una persona fedele quindi potrebbe anche essere una persona fedele ha tutto sommato un buon carattere parla poco magari fai fatti no come si sol dire parla poco ma fai fatti ok prendiamone un'altra ha una buona posizione finanziaria beh questo non ci dispiace no perché come si dice zucchero non guasta pietanza prendiamo anzi no facciamo così vediamo il fondo mazzo con la terza con la sesta è una persona seria allora ragazze queste sono le caratteristiche di questa persona quindi è una persona allegra dalla battuta pronta è una persona fondamentalmente fedele ha un buon carattere ha un buon carattere parla poco ha una buona posizione finanziaria ed è una persona seria adesso io con i tarocchi andrò a fare un po' un approfondimento di questa prima diciamo situazione abbiamo queste diciamo come dire questa descrizione andiamo a vedere questa persona è una persona allegra ok dalla battuta pronta quindi andiamo a vedere che altro ci vuoi un approfondimento su questa diciamo carta noi vediamo se ci danno qualche altra indicazione per capire chi è questa persona prendiamo tre carte quindi abbiamo qua il quattro di bastoni abbiamo il tre di bastoni abbiamo il sei di bastoni a fondo mazzo abbiamo un re di coppe quindi qua ragazze intanto qua ci dà una conferma su questa carta qui no quindi qua viene fuori il segno d'acqua quindi scorpione appunto pesci o cancro quindi intanto ci dice che questa persona vedete è una persona allegra è una persona dalla battuta pronta è una persona come vedete che crea sempre allegria vedete è una persona che è un po' un tipo una sorta di sognatore no quindi e crede molto nei legami diciamo quelli là proprio importanti quindi la famiglia crede nei valori quindi questa persona oltre ad essere una persona allegra dalla battuta pronta è una persona che sa dare gioia sa dare sicurezza che vive la vita proprio come una festa quindi proprio bella la personalità mi piace tanto ragazze è una persona che ha sempre progetti stimolanti ha la ricerca sempre di cose nuove osserva molto ha uno spirito di osservazioni poi vive sempre diciamo la sua vita con volendo coronare i suoi sogni con fiducia ed è anche una persona molto speranzosa e vive la vita sempre con novità con voglia di novità e con fama e con successo infatti qua usciva che ha una buona posizione e vedete anche un uomo comunque che sa dare amore un re di coppe quindi qua questa la mettiamo pure qua questa carta allora andiamo a vedere invece sulla su quella che è uscito che lui è fedele vediamo perché è fedele questa persona oppure vediamo oltre alla fedeltà quale altra informazione e descrizione ci dà questa carta quindi è fedele ok qua dice è fedele vediamo cosa viene fuori su questa carta è fedele allora andiamo a prendere qua viene il matto viene 5 di spade viene 2 di spade a fondo matto abbiamo la temperanza allora questa è una persona che probabilmente dopo una serie di cioè lui è uno questo che incontrerete è uno che se le godute tutte vedete il matto il matto questo ha fatto di tutto e di più è stato tanto tempo magari così con voglia d'avventura con voglia di saltare nel vuoto eccetera poi a un certo punto questa persona ha capito che questa situazione gli portava dei conflitti molto forti con se stesso con le persone con cui interagiva gli portava anche un'autodistruzione perché questa è una carta che fa soffrire molto di cattiveria, di tradimento, di esilio quindi con questo risultato del suo comportamento diciamo del passato lui ha con la carta della temperanza vedete ha scelto di stemperare un po' di guarire da queste sue diciamo fisse che avevano quindi con riflessione e con pazienza con adattamento ha deciso di essere fedele nei suoi rapporti diciamo futuri quindi questa è una persona che si è tanto divertito poi a un certo punto ha visto che tutto questo modo di fare non gli portava granché bene e ha deciso di cambiare e di diventare fedele vediamo sulla carta questa ha un buon carattere che approfondimento ci danno i tarocchi beh questo ha un buon carattere però è molto vanitoso vediamo un po' 9 di spade abbiamo il 2 di denari è il cavaliere di spade allora questa persona ha fatto un po' lo stesso escursus della fedeltà quindi questa persona in passato ne ha fatte di cotte e di crude vedete era una persona un po' così che insomma vanitosa che creava dei sottefuggi insomma se si divertiva e faceva tutto questo popò è normale no? quindi creava pure dei raggiri delle cose queste gli davano sempre un senso di indecisione perché lui vedete viveva sempre questi rapporti con estrema leggerezza abbiamo il 2 di denari quindi voglia di giocare un rapporto giocoso leggero e quindi non aveva la capacità di adattarsi a un rapporto serio quindi poi alla fine invece lui con il 9 di spade dopo aver subito probabilmente delle delusioni no? quindi ha capito che doveva bypassare questa energia da cavaliere di spade quindi persona molto sia audace forte che si destreggia molto bene però questo prima era una persona che creava conflitti ostilità con il suo modo un po' collerico quindi lui ha aggiustato anche un buon carattere adesso quindi ragazze qua state andando a incontrare una persona che ha già fatto un bel escursus suo personale e quindi lo trovate già bello che è cambiato modificato poi se questa descrizione è una persona del passato che voi state riconoscendo per descrizione allora questa è una persona che prima era così e adesso sta cambiando sta cambiando perché perché insomma ha capito evidentemente delle cose vediamo sulla carta parla poco cosa esce fuori sul parla poco 5 di bastoni 8 di coppe 10 di bastoni abbiamo il cavaliere di coppe come fondo mazzo quindi questa è una persona che probabilmente non è molto loquace ha uno spirito un po' competitivo di sfida è un po' spavaldo no? forse in gioventù perché qua parla di entusiasmo giovanile e anche di una corsa alla ricchezza alla zuffa eccetera quindi questo insomma ha cavalcato benissimo per essere poi avere una buona posizione finanziaria quindi lui ha in qualche modo vedete rinunciato abbandonato alcune cose della sua vita magari degli affetti per andare incontro a dei doveri a delle responsabilità a un qualcosa di molto forte quindi questa è una persona che parla poco però fa tanto vedete nel senso che poi alla fine è una persona sicura di sé che sa anche donare una coppa insomma il cavale di coppe è comunque un uomo seducente che seduce ma anche protettivo vediamo qua ha una buona situazione finanziaria vediamo un po' se è vero o se ci da qualche altra notizia sì questo con la sua forza d'anima abbiamo la carta della forza ha sfidato solo di quell'altro è una persona ha superato tutte le sue paure ha la gioia di vivere ha il coraggio da vendere quindi ha superato tutte le sue paure ed è riuscito ad ottenere con il set con prove con pazienza con progressi questi frutti sono maturati vedete questa è una persona comunque anche fortunata quindi ci ha avuto delle buone situazioni e si è realizzato con il mondo realizzazione totale quindi qua questa buona situazione finanziaria che lui ha se l'è proprio diciamo lavorata con tanta forza tanta determinazione anche con un pizzico di fortuna vediamo un po' è una persona seria vediamo qua andiamo alla prova della sua serietà vediamo che altro ci vogliono dire sì questa è una persona che ha sempre buone prospettive ha fiducia nel destino vede sempre fantastica ha desideri di nuove situazioni anche perché nel passato le sue azioni un po' vedete nebulose un po' qualche inganno qualcosa gli hanno portato a tristezza a delusioni quindi è come se questa persona adesso vuole essere una persona seria perché in passato lui si è giocato un po' l'asso di coppe vedete si è giocato il vero amore per una situazione di segreti svelati di inganni e quindi adesso sta provando un senso di rimorso di tristezza vedete come se si fosse autodistrutto e quindi lui adesso dice io voglio essere una persona seria se ci sarà per me se c'è ancora la speranza la fortuna la stella di trovare un grande amore questa volta io sarò una persona seria quindi qua ragazze questa persona che si sta è destinata a voi e la descrizione è questa io adesso non so se qua la descrizione è qualcuno che già conoscete allora questa persona sta tornando si sta riaffacciando in qualche modo si riaffaccerà con voi in maniera totalmente diversa proprio come se fosse una nuova persona se invece non la conoscete oppure la conoscete e ancora non c'è una situazione presto si verificherà questa situazione vediamo ancora quindi descrizione precisa di che è destinato a me quindi adesso vediamo questa persona qua abbiamo visto un po' come vive i sentimenti il comportamento che tipo di lavoro abbiamo detto che ha una buona posizione diciamo sociale adesso vediamo un po' questo destino questa persona destinata a voi come andrete a finire insomma abbiamo cinque carte abbiamo mancanza di benessere richiesta d'aiuto mancanza di attenzione abbiamo le emozioni forti abbiamo le comunicazioni desiderate amore unione serenità di coppia e qua abbiamo la carta vorrei venire da te ma mi trattengo quindi qua che cosa ci dicono queste carte ragazze in questo momento questa persona vedete è allontanata da voi se si tratta di una persona del passato questo si è allontanato ci sono stati dei tradimenti magari non è stato avuto delle mancanze verso di voi e adesso sta richiedendo aiuto con questa carta bisogno d'aiuto vedete qua dice se devo chiederti attenzione ti lascio le tue distrazioni quindi è come se voi vi siete allontanate in qualche modo o c'è stato comunque un motivo per cui voi vi siete allontanati adesso vuole questa richiesta d'aiuto perché ha capito di provare emozioni forti per voi quindi vi avrà comunicato si sarà messo in comunicazione con voi e con questa carta vuole nuovamente un'unione una coppia e qua dice vorrei venire tanto di te ma ancora mi trattengo perché ancora non ha chiaro se voi ve lo rivigliate questa è la versione se fosse la descrizione di uno del passato se invece questa persona non la conoscete oppure si avete capito una descrizione di qualcuno che magari potete conoscere magari di vista oppure così un amico oppure insomma non sapete di chi stiamo parlando quindi è tutta una cosa proiettata nel futuro questa persona dopo un momento di perché qua l'hanno un po' descritto questo prima era in un certo modo quindi distrazione allontanamenti tradimenti adesso lui ha capito e vuole in qualche modo vedete ha capito che questo suo modo di fare gli mancava il benessere non gli dava quello che lui probabilmente chiedeva quindi adesso è come se inconsciamente vuole una richiesta d'aiuto che cosa vuole vuole in qualche modo ritrovare emozioni forti vuole trovare una sorta di coppia e quindi qua probabilmente ci danno un input che voi potete conoscere questa persona attraverso comunicazioni non lo so adesso le comunicazioni qua sono tante vedete c'è un mondo di comunicazioni quindi vedete voi può anche essere che non lo so vi conoscete tramite chat virtualmente poi dopo vi conoscerete oppure questa è una persona che avete dei contatti magari vive in un'altra città in un altro paese straniero non lo so poi fate un po' calzare e questa persona ancora si trattiene all'incontro quindi come se è destinata a voi sta per arrivare però ancora deve risolvere cioè ancora non deve risolvere ancora non è il momento giusto cioè come se ancora il fato non ha deciso quindi dice vorrei venire ma mi trattengo perché ancora lui ha bisogno di ultimare questo suo karma per poi poter presentarsi con questo appuntamento del destino che ha con voi quindi ragazze questa era appunto l'interattivo relativo alla descrizione precisa di chi è destinato a voi io adesso ovviamente è sempre un interattivo lo sapete in ogni caso fatemi sapere nei commenti sapete che io vi leggo tutti sono curiosa di sapere se ci sono poi questi riscontri io fatemi sapere anche se vi è piaciuto l'interattivo se vi siete riscontrati e quant'altro mettetemi un like se appunto avete gradito questo mio interattivo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi va di farlo tutto questo che io vi dico mettete il like iscrivetevi insomma non c'è nessun obbligo per carità ma semplicemente se vi va di farlo se avete il piacere di volerlo fare ragazze io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo mio nuovo interattivo vi aspetto nei commenti vi mando un bacione vi auguro una meravigliosa giornata e vi do appuntamento a tutti gli altri miei interattivi ciao a tutti